Oggigiorno abbiamo la possibilità di circa il 40% dei pazienti con tumore pulmonare in una piccola cellula in stadio avanzato in questo momento e con questo tipo adenocarcinoma che possono avere una caratterizzazione molecolare. Questo fa sì che il trattamento che ne consegue, trattamento mirato, comporta un vantaggio in sopravvivenza. Facciamo alcuni esempi. La malattia EGFR mutata e la malattia ALK positiva sono quelle con una maggiore conoscenza perché sono quelle per le quali abbiamo avuto prima i farmaci mirati. Per esempio la malattia EGFR mutata prima dell'introduzione dei farmaci biologici aveva un'attesa di vita in stadio avanzato intorno a un anno. Ora, grazie ai farmaci biologici e ai inibitori specifici, abbiamo triplicato l'attesa di vita. Nella malattia ALK positiva, sempre a quella attesa di vita intorno a un anno, abbiamo raggiunto un'attesa di vita che è 6-7 volte superiore. Quindi abbiamo pazienti, e io nella mia pratica clinica ho pazienti che hanno aderito a vari protocolli di ricerca, quando i farmaci erano sperimentali che hanno un'attesa di vita superiore a 10 anni rispetto a un'attesa quando si fosse fatta la chemioterapia intorno a un anno. Quindi questo è il delta che otteniamo e oltretutto questo vantaggio che otteniamo in sopravvivenza lo otteniamo attraverso dei trattamenti meglio tollerati. Quindi anche da un punto di vista dell'accettabilità del paziente sono decisamente meglio tollerabili. E tutto questo, nella maggior parte dei casi, quando parliamo di farmaci biologici, per lo più parliamo anche di terapie orali, quindi meno invasive anche proprio nella modalità di somministrazione. È chiaro che non è tutto oro, perché i farmaci biologici hanno questa possibilità di risultato, non lo hanno nella totalità dei pazienti che trattiamo, perché abbiamo alcuni, una quota minoritaria, ma che in una, diciamo, farmaco uno per l'altro può essere circa intorno a un 20-30% di pazienti che potrebbe non avere un beneficio così prolungato. E purtroppo sappiamo anche che a questo beneficio poi a un certo punto si instaurava resistenza. Però questo non vuol dire assolutamente non andare a cercare queste alterazioni molecolari, perché se le troviamo offriamo il percorso terapeutico che vi indicavo appunto con possibilità di terapia e vantaggi di sopravvivenza importanti.